Per recuperare il nome utente della tua firma remota, collegati alla pagina selfcare.firma-remota.it. Clicca su Recupero nome utente. Inserisci l'indirizzo email associato alla tua firma remota. Spunta la casella posta accanto alla dichiarazione Non sono un robot e clicca su Invia, così riceverai un email contenente il nome utente. Grazie a tutti.